Ed eccoci qua in una quinta puntata circa la sicurezza elettrica, quindi bentornati in conoscenza generale e oggi parleremo della resistenza elettrica del corpo umano. Per la determinazione dei valori di tensione pericolosi, in caso di guasto, è necessario determinare i valori di resistenza relativi ai predetti limiti di corrente. La resistenza del corpo umano è praticamente concentrata sull'epidermide in quanto le parti interne. Per la loro costituzione non presentano che una bassissima resistenza. La resistenza dell'epidermide è fortemente variabile e dipende dall'inspessimento, dall'uniformità, dalle condizioni di umidità e dall'estensione del contatto. I valori mai misurati variano da alcune centinaia di ohm a diversi kilohm. Si passa da valori di circa 100 watt tra tempia e tempia e di 500 watt tra mani bagnate a valori di 50.000 watt. Ed oltre tra mani e piedi di operai addetti a lavori manuali abituati a camminare scalzi. La resistenza del corpo umano varia inoltre con la tensione applicata tenendo a diminuire all'aumentare di essa. Vista quindi la grande imprecisione nella determinazione di univico valore di resistenza, convenzionalmente sono stati stabiliti i seguenti valori. in ambienti accessibili a tutti, molto umidi e bagnati. E in ambienti accessibili a tutti ma aventi caratteristiche fisiche normali. Quindi praticamente mediamente il valore convenzionale di resistenza che si attribuisce al corpo umano a cui si fa riferimento è di 3.000 watt. Ma come proteggersi contro i contatti diretti e indiretti? Ecco, la presenza di impianti e apparecchiature elettriche in tutti i luoghi in cui viviamo, mentre dal lato costituisce un vantaggio, ormai rinunciabile, dall'altro è fonte di seri pericoli. Come già visto, l'elettrooculsione può avvenire per contatto indiretto o contatto diretto e si rende pertanto necessario prevedere protezioni che garantiscono il minimo rischio nei confronti sia dell'utente sia delle persone destrate. La normativa a cui ci deve riferire è compresa nelle norme CEI 64.8. Un sistema elettrico a bassissima tensione di sicurezza denominato SELV, quindi Safety Extra Long Voltage, dalla norma 64.8, costituisce una protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti. Un tale sistema è caratterizzato da una tensione norminale non superiore a 50 Volt in corrente alternata e a 120 Volt in corrente continua e deve essere alimentato e realizzato in modo che nessuna parte possa assumere tensioni maggiori. Le citate norme CEI 64.8 definiscono come sistema elettrico quella parte di impianto elettrico costituita dal complesso dei componenti elettrici, aventi una determinata tensione nominale e la tensione nominale di un sistema, come il valore intermedio fra i valori massimo e minimo in condizioni regolari d'esercizio E, con il quale il sistema è denominato. Per i sistemi trifase si considera la tensione concatenata, quindi le protezioni contro i contatti diretti si distinguono in totali e parziali, ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Arrivederci, ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo condividetelo, iscrivetevi al mio canale e se vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Ciao e alla prossima!